Grave incidente tra Cattolico e Gabic, 50enne portato in Elia Ambulanza Cesena. Ricomincia la scuola, il racconto del ritorno degli studenti tra i banchi. Elezioni comunali, sfida a due a Fermignano. Servizio civile regionale, la Honol Gulliver cerca 30 nuovi ragazzi. Mercoledì 15 settembre, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. In apertura questa sera parliamo di cronaca e in modo particolare del grave incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 7 lungo la strada statale Adriatica 16, nel tratto compreso tra Gabic e Cattolica. Lo scontro ha interessato due mezzi, un camion e un'automobile. Secondo le prime ricostruzioni, l'autovettura che procedeva in direzione a Pesaro avrebbe invaso l'altra corsia di marcia, impattando fortemente contro l'autocarro che invece si dirigeva verso Rimini. A seguito del violento sinistro sono apparse subito gravi le condizioni del conducente dell'auto, un cinquantenne residente nella provincia pesarese, il quale è stato estratto dalle lamiere del mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Cattolica. L'uomo è stato poi trasportato in Elia Ambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Pesaro per regolarizzare il traffico, rimasto bloccato per oltre un'ora. È suonata questa mattina la campanella per gli studenti marchigiani e chiaramente anche gli studenti pesaresi, questa prima campanella del nuovo anno scolastico. Tante le emozioni delle ragazze e dei ragazzi che dopo diversi mesi di didattica a distanza tornano a fare lezioni dal vivo. Importante è anche l'organizzazione dei vari istituti per garantire il controllo del Green Pass tra il personale scolastico. Vi raccontiamo tutto in questo primo servizio di Daniele Romagna. Mercoledì 15 settembre è suonata anche nelle Marche la prima campanella per il nuovo anno scolastico. A Pesaro tante le emozioni raccontate dagli studenti prima del rientro in aula e dopo i mesi di didattica a distanza sostenuti a causa del Covid. È tutto bene, ho un po' di ansia però per l'inizio. Ci sperano a meglio dell'anno scorso e anche i compagni li rivedremo meglio. Questa qua è una nuova scuola per me perché arrivo da Bologna e quindi diciamo è un altro primo giorno di scuola. Con la didattica a distanza non era come stare in classe e stare a scuola e comunque anche con la didattica a distanza non potevi conoscere i tuoi compagni di classe o fare amicizie. La situazione sul bus era abbastanza regolata bene perlomeno in quello che ho preso io che era diretto proprio al campus che non era nessuna linea di nessun tipo tipo verde o rossa. Quelli di solito sono pieni ma quella che prendo io che porta proprio qua al campus era abbastanza vuota. L'anno scorso ero in prima e non ho conosciuto i miei compagni di classe quindi vorrei conoscerli. Io sono molto tranquillo però da quest'anno vorrei che fosse tutto al 100% perché lo scorso anno 50-50 è stato molto, come dire, confusionario e c'erano proprio due sistemi diversi di approccio agli studenti. Speriamo di restare in presenza ovviamente anche perché è inutile dire ma si sta proprio meglio qua a scuola, c'è un altro ambiente. Importante il lavoro organizzativo questa mattina dei dirigenti scolastici oltre ad accogliere gli studenti infatti è stato obbligatorio verificare la presenza del Green Pass tra il personale scolastico. All'inizio è andato assolutamente bene nel senso che non abbiamo avuto problematiche di nessun genere né con il controllo del Green Pass per gli operatori scolastici quindi i docenti ATA e nemmeno per tutti gli adempimenti di rito dei ragazzi. In questo momento stiamo attendendo ancora l'ingresso delle classi prime perché c'è un progetto accoglienza. Per quello che mi riguarda è un anno nuovo anche per me, un inizio in una scuola che sono onorata di presiedere che comunque ha contrassegnato la storia della popolazione scolastica della nostra città. Più o meno ci siamo, più o meno ci siamo. Noi abbiamo fatto entrare alla prima ora, cioè entro le 8 e 10, le seconde, le terze, le quarte e le quinte. Adesso alle 9 e mezza entreranno le prime. Ogni ragazzo dovrà presentare l'autocertificazione, i minorenni firmati appunto dai genitori, i maggiorenni possono anche firmarla autonomamente. Anche i controlli del personale di scuola è andato bene perché la piattaforma chiaramente ci ha dato in un attimo la situazione di tutti, Green Pass Verde, Green Pass Rosso. Sono soltanto due persone, due o tre persone che comunque quando entreranno sicuramente, perché ancora non sono in orario, quando entreranno confido che abbiano il Green Pass Verde che quindi stamattina avranno regolarizzato la loro situazione. Comunque è una situazione, la piattaforma ci aiuta molto perché fino ad oggi, dal primo settembre, abbiamo controllato tutto il personale che entrava a scuola. Io direi piuttosto bene, tutto regolare, sono reduce appunto da un giro e una perlustrazione. Qui abbiamo anche i container, i cosiddetti container, in realtà sono prefabbricati che alloggiano quattro aule, però sono dotati di comfort, abbiamo potuto appurare stamattina che funziona tutto, la provincia ha fatto un bel lavoro, devo dire. I controlli invece per i docenti e per il personale scolastico? Noi abbiamo circa il 94% di vaccinati, abbiamo l'altro 6% di gente che si tampona. Quindi io perlomeno dentro la mia scuola, su 250 unità di personale, nessuno è no Green Pass. E nel giorno di ripartenza per tutti gli istituti scolastici marchigiani, l'assessore regionale all'istruzione, Giorgia Latini, ha voluto augurare un buon rientro in classe alle studentesse e agli studenti, ricordando gli sforzi fatti sia dalle istituzioni che dai tanti attori del mondo scolastico per garantire il ripristino della didattica in presenza. A Pesaro invece il sindaco Matteo Ricci, accompagnato dall'assessore alla crescita Giuliana Ceccarelli e dall'assessore all'operatività Enzo Belloni, ha fatto tappa alla scuola di infanzia Grillo Parlanti a Villa Fastigi, all'Ambarabà a Tombaccia e alla scuola media Gaudiano per salutare e augurare un buon anno scolastico ai ragazzi pesaresi tornati sui banchi dopo la pausa estiva. E a Fano, in occasione del suono della prima campanella, è stata inaugurata questa mattina la nuova scuola primaria di Cucurano. La nuova struttura, che comprende anche una nuova palestra, ospiterà circa 200 studenti ed è allestita con i nuovi arredi scolastici ordinati e acquistati dal comune di Fano per un importo di 200 mila euro. Sul fronte dei trasporti invece molteplici sono stati disagi arrecati per la mancata regolarità dei servizi da parte di Tundo, questa ditta responsabile del comparto scuola bus per ragazzi e bambini delle scuole materne, elementari e medie. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, è arrivata comunicazione dalla società che il trasporto non sarebbe stato garantito anche in diversi comuni del Pesarese, costringendo le amministrazioni locali ad affidare il servizio ad altri fornitori e a trovare soluzioni di emergenza. La regione ha sporto denuncia contro la ditta per interruzione di pubblico servizio. Critico su quanto accaduto anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani, il quale ha ricordato i controlli richiesti nei mesi passati per verificare l'affidabilità della Tundo. Cambiamo ora argomento e parliamo di politica perché tra i comuni della provincia pronti a eleggere il nuovo sindaco nelle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre c'è anche Fermignano. La sfida sarà tra il primo cittadino uscente Emanuele Feduzzi e la sfidante Delfina Betonica. Li sentiamo in questo prossimo servizio. Anche i cittadini di Fermignano saranno chiamati alle urne per le prossime elezioni comunali, in programma il 3 e 4 ottobre. Elezioni attraverso le quali sarà individuato il primo cittadino e la squadra di assessori che guideranno il comune della provincia pesarese per i prossimi 5 anni. Pronto per la sfida elettorale, il sindaco uscente, candidato per il centro-sinistra, Emanuele Feduzzi. Il nostro programma prevede in realtà una continuità con la Fermignano futura che abbiamo vissuto in questi 5 anni. In questi 5 anni abbiamo investito nella nostra città 13 milioni e mezzo di euro e il nostro progetto principale era e sarà la terminazione dei lavori della scuola primaria che ospiterà 500 bambini. In un colpo solo riusciremo a sistemare due aree, appunto l'area di Via Carducci dove varrà demolita la vecchia scuola per far spazio ad un anfiteatro che ospiterà le varie manifestazioni della nostra città e della nostra scuola e ovviamente la nuova scuola che ospiterà tutti i bambini di Calpino e Fermignano con una scuola ipertecnologica, una scuola 4.0. Abbiamo poi la costruzione del nuovo centro-anziani, una nuova rete di ciclabili che abbiamo progettato insieme all'architetto Tuttini e che stiamo mettendo già in opera con i nuovi marciapiedi di Via Tasso con la nuova area citabile, tutta una serie di attività, ad esempio come la nuova pubblica illuminazione, come oggi abbiamo vinto un nuovo bando europeo che ci finanzierà altre 300 mila euro di interventi quindi altri 221 punti lusso. Avremo poi una serie di asfaltature, chiaramente, ma quello che sarà il macro progetto ovviamente sarà l'ex campo sportivo che dovrà essere il nostro nuovo polmone della nostra città, il nostro nuovo luogo dove poter fare manifestazioni e fare incontrare le famiglie fermiglianesi. Tra i principali obiettivi portati a termine nei primi 5 anni di mandato, racconta Feduzzi, c'è quello di aver messo a norma gli edifici scolastici e le strutture sportive del comune. Abbiamo messo in sicurezza completamente tutte le strutture della nostra città ma soprattutto le abbiamo resi accessibili anche coloro che sono portatori identiche con l'installazione di 4 a 9 sensori che hanno reso così completamente accessibili tutte le nostre strutture. Quello che abbiamo cercato di fare è di coinvolgere in questi 5 anni la città nelle scelte. Ad esempio penso che siamo stati i primi che abbiamo posto un referendum in un quartiere per desiderare la viabilità insieme a loro, insieme ai nostri concittadini. Ed è questo molto bello. Giovani, turismo, attenzione al sociale e alla comunità grazie all'istituzione di tre sportelli, uno legale, uno psicologico e uno dedicato al cittadino e con lo sguardo sempre attento anche sulle opere pubbliche. Su questi principali punti si base invece la proposta della candidata prima cittadina per la lista Fermignano Rinasce, Delfina Betonica. Col cittadino bisogna parlare, bisogna aprirsi, bisogna fermarsi, bisogna ascoltarlo. Questo a nostro avviso un pochino ha mancato. Vorrei coordinare una squadra per poter raggiungere degli obiettivi utili al paese e ai cittadini. Decisamente la piazza Caribaldi va rivista nel senso che la viabilità e l'utilizzo della piazza va vista in maniera diversa. Teniamo di fondamentale importanza le asfaltature perché le strade sono veramente deteriorate, particolarmente poi le strade anche periferiche. Riteniamo giusto che per quanto riguarda il campo sportivo riqualificarlo e riteniamo giusto effettuare una trasformazione in campo pubblico. Differente la visione rispetto a Feduzzi sul complesso della scuola Bramante per la quale la candidata di centrodestra auspica un recupero e non una demolizione. Io apprezzo molto che la struttura sia a livello tecnologico all'avanguardia però nulla vieta che assolutamente è un obbligo buttare giù, secondo noi, la vecchia scuola diciamo quella dove attualmente ci sono i ragazzini che stanno frequentando attualmente la scuola primaria. Dal nostro punto di vista erano locali che potevano essere benissimo recuperati da un punto di vista anche della sicurezza e utilizzati peraltro. E come di consueto il nostro spazio dedicato alla sanità, dedicato ai dati da Covid-19 sul nostro territorio. Il bollettino del Servizio regionale Sanità segnala che nelle ultime 24 ore su 3.803 tamponi analizzati sono 173 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle Marche. Di questi 12 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale non sono stati notificati nuovi decessi legati al Covid. Questa mattina la Onlus Gulliver presso la sua sede in Via Toscana 111 ha presentato le modalità di partecipazione al bando del Servizio Civile regionale che mette a disposizione 30 posti per giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni desiderosi di collaborare con la Gulliver nelle attività di assistenza e donazione promosse dall'Associazione. Vediamo quindi le interviste. È una proprietà molto importante, 30 ragazzi per 12 mesi che possono fare con la Gulliver un'esperienza secondo me meravigliosa di crescita interiore, di approccio al mondo del volontariato, al mondo ambientale e sociale. Quindi il nostro invito è quello di, ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che non lavorano in uno studio, di presentarsi nella nostra sede in Via Toscana 111. Ci sono delle ragazze, le stesse ragazze che hanno fatto il Servizio Civile, che daranno una mano a chi vorrà di presentare la domanda. È un'opportunità secondo me da accogliere perché in questo momento difficile, anche dal punto di vista umano, impegnarsi nel mondo del volontariato è una cosa bellissima. Entro il 18 ottobre si chiuderanno la fase burocratica. Andremo poi alla selezione dei ragazzi che inizieranno il primo dicembre per 12 mesi, ricordo. Ad oggi abbiamo 10 ragazzi del Servizio Civile regionale e abbiamo 10 ragazzi dell'Erasmus, del Servizio Civile europeo. Come detto, adesso 30 ragazzi nuovi della nostra regione, quindi posso fare domanda ai cittadini di Pesaro, di comuni limitrofi, più anche 10 ragazzi del Servizio Civile europeo. Quindi una comunità di giovani che dà una mano alla città e alla comunità. La Gulliver in questi anni ha sempre partecipato ai bandi che la Regione Marchi ha messo in campo. In questo caso si parla di giovani, quindi un servizio civile rivolto ai giovani che consentirà a questi ragazzi di fare un'esperienza che durerà un anno. Avranno anche una minima indennità perché sei di circa di poco più di 400 euro al mese. L'Holus Gulliver non solo si rivolge ai giovani, ma molto spesso utilizza per le proprie attività anche, come dire, io li chiamo le persone meno fortunate, cioè le persone che nel corso della loro vita hanno avuto dei problemi, o persone che comunque hanno un disagio dal punto di vista sociale o che hanno fatto, come dire, degli errori durante il loro percorso di vita. Quindi la Gulliver oltre a svolgere una funzione, un'attività che è importante, perché ricordo che recuperano e riutilizzano quelli che sono i prodotti, vedo qui siamo dentro il loro capannone, qui viene venduto quello che normalmente veniva buttato via e vengono probabilmente utilizzati molto spesso dalle persone che non hanno capacità economica per potersi rivolgere al mercato normale, cioè poter andare in un negozio. Come abbiamo visto in questi ultimi anni, soprattutto con l'emergenza Covid, il problema che probabilmente esisteva già da prima ma che si è acuito molto di più è quello di dare una risposta ai nostri giovani. In questo momento hanno loro bisogno di un aiuto e di un sostegno da parte nostra, da parte di tutte le istituzioni. Questa è un'opportunità che non è la soluzione, ma una delle tante soluzioni. Io spero che, parlo per il Comune di Tavuglia, insomma i giovani recepiscono l'opportunità che gli viene data e la prendono al balzo. Sì, anche a Montellabate come amministrazione siamo lieti di partecipare a questa iniziativa in quanto ha una triplice valenza positiva sia per l'associazione Gulliver che sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio, per le persone a cui è destinato questo servizio dell'associazione ma anche per i giovani che, come è stato detto, vengono coinvolti in questa iniziativa in una fascia di età particolare che è quella che non studiano e non lavorano. È stato assegnato ieri pomeriggio nella cornice dell'auditorium di Palazzo Montani Antaldi il premio Circolo della Stampa Pesaro 2020-2021 alla senatrice a vita Liliana Segre. Oltre al premio, diverse sono state le parole e le testimonianze video giunte in omaggio della senatrice presenti alla cerimonia insieme al presidente del circolo Elio Giuliani e alle massime autorità della provincia anche l'ex magistrato Gerardo Colombo che ha consegnato il riconoscimento alla Segre. In attesa di riprendere la regolare programmazione della stagione teatrale la piccola ribalta nella sua sede di Via dell'Acquedotto propone nei giorni di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre alle ore 21 il debutto di Iperdenti. Commedia scritta e diretta da Samuele Ruini ed Erika Vaccarini. Maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando il numero che vedete in sovrimpressione. Prenderà il via sabato 18 settembre alle ore 21 l'evento musicale promosso dai frati del suo antuario Madonna delle Grazie e dal coro filarmonico Rossini. Il suo antuario ospiterà infatti il concerto Magnificat RV 611 e Gloria RV 589 di Vivaldi. Concerti per soli, coro e orchestra. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti. Cerca ancora adesioni il progetto passeggiata ecologica organizzato dall'associazione Braccia Aperte che ha come obiettivo quello di contribuire al decoro cittadino riciclando i rifiuti abbandonati per strada. L'appuntamento è per domenica 19 settembre dalle ore 8 e 30 del mattino. Punto di ritrovo per chiunque voglia partecipare sarà il parcheggio Campo di Marte a Baia Flaminia. E parliamo ancora di eventi perché è in programma sabato 18 settembre la seconda edizione del Festival della Comunicazione tra i protagonisti rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, dell'università, filosofi, informatori e comunicatori che si alterneranno la mattina e la sera. L'evento si svolgerà presso il centro Arti Visive Pescheria con accesso libero fino ad esaurimento posti. Obbligo di Green Pass. Il Festival della Comunicazione è un evento, è la seconda edizione, è un evento molto importante. Abbiamo la possibilità di approfondire con persone di altissimo livello il tema dei temi che è quello della comunicazione, dei social, delle fake news. È il tema a mio avviso molto 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 importante. Siamo dei contemporanei di questo. Quest'anno abbiamo due panel. La prima parte alle 10 della mattina in cui avremo la possibilità di ascoltare il rettore dell'università di Urbino con Salvatore Giordano e Stella Scarpa che sono imprenditori, impresa e università per parlare di comunicazione. La parte successiva con Bocciartieri, Giglietto e Burdino che sono tre docenti. Bocciartieri è il prorettore, esperti di comunicazione, di social media e quindi è una prima parte questa della mattina, delle 10 a mezzogiorno circa, piena dell'università e dell'impresa. La seconda parte invece è quella della sera con Maurizio Pallante che è un amico che è la terza volta che viene a Pesaro invitato da me e Paolo Ercolani che era ospite anche l'anno scorso. La situazione sia sosanitaria ma soprattutto dei risvolti legati alla comunicazione, la certezza, l'autorevolezza delle fonti, come districarsi tra le tante trappole che a volte anche il web e non solo ci riservano ma soprattutto lo spaccato che tiene insieme a professionalità dall'ambito universitario a quello giudiziario, a quello culturale, associazionistico per tenere la comunicazione al centro ma soprattutto anche una riflessione su come orientarsi nel mondo dell'informazione e della comunicazione a partire dal nostro territorio. Siamo alla pescheria esattamente nella chiesa del suffragio a lato, ci sono pochi posti, purtroppo con il Covid i posti sono limitati, credo che siano 40, quindi non possiamo prenotare, ci saranno le regole del Green Pass per entrare e chi non può essere lì ci seguirà sui social. Continuiamo a parlare di eventi perché si terrà domenica 19 settembre al Parco Miralfiore la cerimonia per festeggiare il trentennale della nascita dell'Admo, associazione donatore midolosseo delle Marche, un programma ricco tra premiazioni, momenti di ricordo, testimonianze e anche sport. Allora sentiamo qualche dettaglio nelle prossime interviste. Il motivo principale per cui noi organizziamo eventi in tutta la regione è promuovere la donazione di midolosseo. Essere dei potenziali donatori informati è sicuramente la cosa più importante. E quindi questo evento di Pesaro festeggiamo qui il nostro trentennale. Lo festeggiamo qui perché torniamo a Pesaro dove Addo è nata nel 1991, seguendo il primo trapianto di midolosseo fatto dall'ematologia del professor Lucarelli, quindi ci sembrava giusto festeggiarlo in una cornice adeguata come quella di Pesaro. Saremmo presso il Parco Miralfiore con un evento immaginario, un sogno per noi, ma veramente bello e pieno di significati. L'evento nel quale vi aspettiamo si terrà il 19 settembre prossimo, dalle 10 alle 18. Una breve carrellata delle attività, dalle 10 ci sarà una parte più istituzionale di testimonianza anche dei donatori di premiazione, dei donatori effettivi che nelle Marche sono stati 95 in questi trent'anni. Li premeremo con la piantumazione di una pianta, di un albero per ogni donatore. Creeremo infatti 10 giardini nelle Marche. Il primo giardino verrà proprio piantumato al Parco Miralfiore, dove si terrà l'evento la prossima domenica. Mi rappresentanza il primo giardino dei 10 donatori effettivi della città di Pesaro. La parte seconda dell'evento sarà ricca di avvenimenti sportivi, perché ci saranno presenti le società che danno lustro e eccellenza al nostro territorio, ma che naturalmente ci rappresentano a livello nazionale e internazionale, come la VL Carpegna Basket Prosciutto Pesaro, la Ital Service Pluricampione d'Italia di Calcio A5 e la Mega Volley, quindi neopromosse ragazze della Serie A1 di Pallavolo. Purtroppo ci si avvicina troppo spesso a certe associazioni, solo quando si è direttamente coinvolti o con un familiare. Invece è giusto sostenere tutte le attività che fa ADMO, anche mettendosi in prima persona, quindi essendo un donatore, per sostenere quelle che sono le attività, per aiutare quello che può essere un nostro vicino di casa oppure una persona che abita in qualsiasi parte del mondo. L'associazione si concentrerà molto sulla sensibilizzazione nella fascia giovanile e fa già un'attività importante di formazione e di sensibilizzazione nelle scuole, proprio per promuovere e incentivare sempre di più la donazione del midollo osseo. Ed ora parliamo di sport, perché Pesaro ospiterà a partire da questo fine settimana i campionati europei di ginnastica aerobica e acrobatica. 1.500 gli atleti provenienti da 32 nazioni diverse. Nella cerimonia di apertura della manifestazione, in programma per venerdì 17 settembre, saranno presenti anche le farfalle azzurre, medaglie di bronzo alle recenti Olimpiadi di Tokyo. A presentarci l'evento nella prossima intervista è Marco Cadedu di EsaTour, il comitato organizzatore della manifestazione. Marco Cadedu di EsaTour Group, comitato organizzatore di questo grande evento che comincerà il 17 settembre, i campionati europei di ginnastica. Evento che comincia alla grandissima, con la presenza delle farfalle azzurre, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo. Prima giornata, ma ci sarà tanto altro. Sì, ci sarà tanto altro. Tengo a precisare che sono i campionati europei di ginnastica aerobica ed acrobatica, quindi due specialità, diciamo, minori rispetto alla ritmica e all'artistica, ma non di mena spettacolarità e sicuramente di fascino. Le farfalle impreziosiranno la cerimonia d'apertura, come hai detto, venerdì alle ore 16 e questo è un grossissimo colpo della Federazione Ginnastica d'Italia perché avere come ospiti un bronzo olimpico non è da tutti i giorni. Naturalmente, per chi volesse acquistare un biglietto, sono disponibili presso tutti i punti vendita di Viva Ticket, nonché online. Il costo del biglietto, lo ricordo, è giornaliero e costa 20 euro per tutti i giorni, tranne le tre domeniche, che sono i giorni in cui si disputano le finali, in cui il biglietto costa 25 euro. È un posto unico che permette di accedere nella tribuna principale, proprio fronte palco e fronte podio di competizione. Ne approfitto anche per ringraziare la Federazione Ginnastica d'Italia che ha permesso a Pesaro di candidarsi e di vincere contro altre destinazioni che avevano messo in campo tutta la loro professionalità. Naturalmente, alla Federazione Europea di Ginnastica sarà presente anche il presidente Farid Gaibov che sarà qui a Pesaro in questo weekend. Il comune di Pesaro che ha messo a disposizione la Vitri Frigo Arena insieme all'Aspes e le tante collaborazioni che abbiamo trovato grazie all'intervento del comune con le scuole pesaresi. Ricordo che il logo, che potete appunto vedere, è stato realizzato dai ragazzi del liceo artistico Mengaroni, ma un ringraziamento anche ai dirigenti scolastici del Marconi, del Mamiani e dell'Istituto Alberghiero che ci forniscono lo staff nella dimensione del progetto scuola-lavoro. Un grandissimo evento chiaramente che porta a Pesaro ad essere una città veramente dello sport a livello nazionale ed internazionale. Ed ora siamo in chiusura del nostro telegiornale, ma prima vi ricordiamo che questa sera alle 21.20 vi facciamo conoscere il Gero Tonic e il Gero Kinesis dove l'esercizio diventa arte, ma soprattutto vi diciamo anche dove potete farlo a Pesaro. E poi a seguire alle 21.40 la conferenza stampa che è stata realizzata presso la Camera di Commercio delle Marche nella sede di Pesaro, Motore Mobile. Un'analisi, un approfondimento dedicato appunto al settore del mobile in questo periodo. Grazie per averci seguito. Come sempre, seguiteci sui nostri social Facebook e Instagram e visitate anche il nostro sito. Ci vediamo domani nella nostra rassegna stampa.